Martedì 12 luglio 2016 a Brescia si è tenuto il convegno il futuro dell'edilizia, convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Questa la tematica principale degli interventi di oggi. Molti gli interventi scientifici ma molte sono state anche le aziende presenti che hanno avuto modo di raccontarsi e di raccontare i propri prodotti. Oggi presentiamo il nostro progetto di rigenerazione urbana di San Pellegrino Terme che ovviamente è composto da edifici quindi da interventi architettonici in qualche modo però è ampliato alla scala anche del paesaggio e anche a una scala socio-economica cioè nel senso che questi luoghi come San Pellegrino quindi un luogo in qualche modo in dismissione ha bisogno di un ripensamento generale sulla propria strategia urbana e economica e sociale. Non c'è un tempo per imparare e un tempo per professare. L'architetto è una figura che si deve continuamente informare, continuamente deve studiare, deve vivere continuamente di questa professione. Grazie per la visione!